Musica Parliamo di multinazionali, parliamo di multinazionali che ci sfruttano, che sfruttano i territori e qua accanto abbiamo il McDonald, una multinazionale che all'interno del suo personale ha il 50% di studenti in alternanza scuola-lavoro è un vero scempio, una multinazionale che continua a sfruttare i territori, a sfruttare le persone Quindi facciamo tutti un coro A.A.D. A.D. capitalista A.A.D. A.D. capitalista A.A.D. capitalista A.A.D. capitalista A.A.D. capitalista Anticapitalista, 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 anticapitalista. Inizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.